Buonasera a tutti, ben trovati al nostro Tg regionale. Apriamo con la cronaca morto durante un controllo di polizia ad Empoli. Gli inquirenti ascoltano 15 persone. Un consulente della procura visionerà i filmati delle telecamere, sia del negozio dove è morto un tunisino di 31 anni, sia quelli dell'area circostante. Intanto il capo della polizia, Gabriele, ha detto che se qualcuno ha sbagliato pagherà. Vediamo il servizio. Proseguono gli interrogatori condotti dalla squadra mobile di Firenze nell'ambito delle indagini sulla morte del 31enne tunisino deceduto giovedì pomeriggio in un money transfer di Empoli dopo essere stato colto da un malore durante un intervento di polizia 118. In tutto, tra ieri e oggi ascoltate o da sentire 15 persone, tra poliziotti, medici e sanitari del 118 e testimoni. Per il momento il fascicolo per omicidio colposo aperto dalla procura resta a carico di ignoti. I quattro agenti della polizia intervenuti per bloccare il 31enne tunisino dopo che aveva dato in escandescenze sono stati interrogati ieri in procura. Le loro versioni, secondo quanto si apprende, sarebbero concordanti e al momento non sarebbero emersi elementi che facciano pensare a evidenti irregolarità nel loro comportamento e in quello tenuto dai soccorritori. L'assenza di condotte palesemente scorrette sarebbe confermata anche da una prima visione dei filmati girati dalle telecamere interne al money transfer e da quelle in strada, che tuttavia nei prossimi giorni saranno visionati anche da un consulente nominato dalla procura. Intanto il capo della polizia, Franco Gabrielli, in merito alla vicenda, dichiara Io rispetto le vittime e i loro familiari. Chiedo che analogo rispetto sia riferito a uomini e donne che lavorano per riaffermare la legalità. Se qualcuno ha sbagliato, pagherà per un giusto processo e non per le farneticazioni del tribuno di turno. E il ministro Salvini, in diretta Facebook, ha commentato così quanto accaduto. Buon sabato ai poliziotti che a Empoli, poche ore fa, facendo il loro lavoro, hanno ammanettato un violento, un pregiudicato che purtroppo poi è stato colto da arresto cardiaco. Ma se i poliziotti non possono usare le manette per fermare un violento, ditemi voi che cosa dovrebbero fare a rispondere con cappuccio e brioche. E molte le reazioni sulla vicenda. Guido Magherini, padre dell'ex calciatore Riccardo Magherini, morto nel 2014 a Firenze durante un fermo dei carabinieri, commenta così l'episodio di Empoli. Ogni caso è a sé, ogni caso è diverso dall'altro. Non so se ci sono analogie con la vicenda di mio figlio Riccardo, però anche nel fatto di Empoli è stato detto che tirava calci, che era in forte agitazione, che non riuscivano a tenerlo. E poi anche questo ragazzo è morto. Sembra una prassi. Si vede che la colpa è sempre di chi muore. Anche l'associazione Stefano Cucchi Onlus ha espresso solidarietà alla famiglia del tunisino morto, aggiungendo non capiamo queste prese di posizione preventive da parte dei rappresentanti delle istituzioni e per questo siamo preoccupati. Voltiamo pagina. Droga, hashish, nascosta e nelle parti intime arrestato un diciottenne a Pistoia. Vediamo. Un diciottenne di nazionalità marocchina, residente a Pistoia, è stato arrestato ieri sera dai carabinieri per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, fermato durante un controllo mirato alla vista dei militari, ha tentato la fuga per le vie del centro di Pistoia, ma è stato bloccato subito dopo dagli stessi militari e trovato in possesso di 100 grammi di hashish suddiviso in dosi per lo spaccio nascosto nelle parti intime. Lo stupefacente è stato sequestrato assieme ad una somma di 200 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari. I controlli serali e notturni dei carabinieri hanno interessato anche altri comuni del Pistoiese. Complessivamente sono stati controllati 42 veicoli e identificate 57 persone. A Quarrata è stato controllato anche un minorenne italiano di 15 anni, il quale è stato trovato in possesso di un grammo di marijuana. Il minore, che dopo il controllo è stato affidato ai genitori, è stato segnalato per uso personale di stupefacenti alla locale prefettura per i provvedimenti di competenza. Ad Agliana, oltre ai numerosi controlli, i carabinieri hanno arrestato, in esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Pistoia, un cittadino marocchino di 27 anni in Italia senza fissa dimora. Il provvedimento è stato emesso dall'autorità giudiziaria sulla scorta di numerosi elementi probatori raccolti dalla stazione Carabinieri di Agliana, che aveva appurato che il 27enne, nell'asso di tempo tra luglio e dicembre 2018, nei comuni di Agliana e Montemurlo, si era reso responsabile di numerosissime cessioni di cocaina e hashish. L'arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Prato, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Controlli sono stati svolti anche dalla Compagnia di San Marcello, che ha segnalato alla Prefettura per uso personale di stupefacenti quattro cittadini italiani di età compresa tra i 25 e i 36 anni, i quali, a seguito di perquisizioni personali, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana per un peso complessivo di circa 13 grammi. Andiamo a Firenze in vista delle elezioni comunali. Fratelli d'Italia candida a sindaco Marcheschi. Candidatura, dice Fratelli d'Italia, a disposizione di tutto il centro-destra. Chiara Valentini. È l'avventura più gratificante correre per fare il sindaco di Firenze e dei miei concittadini. Correrò per Firenze. La mia candidatura è a disposizione di tutto il centro-destra. Così Paolo Marcheschi, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, ufficializza la sua candidatura a sindaco per le amministrative del capoluogo toscano. Nonostante l'apertura agli alleati, però, la scelta del partito della Meloni, maturata in un incontro a Roma insieme ai vertici del partito, rappresenta una spaccatura nella coalizione Lega Forza Italia-Fratelli d'Italia, che continuava a reggere a livello locale dopo la rottura a livello nazionale. Stanchi di aspettare che il partito politicamente più forte, la Lega, si decidesse, Fratelli d'Italia ha deciso di fare da sé. Non si può arrivare a gennaio senza un candidato sindaco, spiega il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Francesco Torselli, che lamenta come in questi mesi i nomi ventilati, ultimo dei tramontati, l'imprenditore Ubaldo Bocci, siano stati solo ipotesi giornalistiche, mai un tavolo, mai una riunione tra di noi, dice Torselli, che però non vuol sentir parlare di scissione. Piuttosto la candidatura di Marcheschi sarebbe un'esortazione agli alleati a fare presto. Se poi ci confronteremo e ne verrà fuori uno migliore, vedremo. Non voglio correre solo per un partito o per una coalizione, sono ancora le parole del candidato Marcheschi, ufficialmente in campagna elettorale. Chi mi conosce sa che sono una persona paziente, che non taglia, ma cuce, e che la mia candidatura è a disposizione di tutto il centro-destra e di coloro che vogliono cambiare in meglio questa città. Un candidato per Fratelli d'Italia verrà ufficializzato per Prato lunedì. Festa per il tesseramento di Casa Pound oggi a Firenze e Scandicci. Sentiamo quali sono i piani per le prossime amministrative. Casa Pound ha già annunciato la presentazione di una lista a Scandicci, anche a Firenze? Sì, abbiamo già annunciato che saremo presenti con delle nostre liste, con dei candidati a sindaco indipendenti, sia nel Comune di Scandicci che nel Comune di Firenze. Che tipo di persone ci saranno nella lista di Casa Pound? Abbiamo unito alla determinazione storica dei militanti di Casa Pound Firenze tantissime professionalità. Abbiamo raccolto intorno al nostro progetto persone provenienti da tutte quelle categorie che negli ultimi anni sono state maggiormente vessate dall'amministrazione del Partito Democratico. Quali sono i punti principali del vostro programma? Allora, agiremo principalmente su quattro emergenti che riteniamo debbano essere risolte in città. Ovvero quella della sicurezza, c'è un'emergenza sociale con la necessità di rimettere i fiorentini al centro delle politiche sociali del Comune di Firenze. C'è lo sviluppo economico perché non ci sono tutele per i commercianti, gli artigiani, gli ambulanti, per tutte quelle imprese del territorio che vengono sempre scavalcate e cannibalizzate dalle multinazionali e dalle aziende straniere che stanno saccheggiando il centro storico. Noi vogliamo difenderle e rilanciarle. C'è poi l'argomento della cultura, c'è l'ambiente, c'è la mobilità, il traffico. Siamo assolutamente contrari al prolungamento della tramvia. Per quanto riguarda Firenze, è recente la notizia di uno strappo di Fratelli d'Italia nel centro-destra che presenterà un suo candidato, ovvero Paolo Marcheschi, attuale consigliere regionale. Voi escludete di appoggiare in qualche modo la lista o comunque il candidato sindaco di Fratelli d'Italia? Allora, noi riteniamo che il centro-destra, tutti i partiti del centro-destra, non abbiano progetti chiari e seri per la nostra città. L'hanno già dimostrato negli anni, ponendo in essere un'opposizione sempre remissiva e rinunciataria. Noi invece vogliamo andare a diritto perché abbiamo un progetto chiaro, un progetto serio di cambiamento per il nostro territorio che nasce dalla militanza, dall'attivismo che tutti i giorni i nostri militanti con grande dedizione mettono a disposizione della città. Già da luglio stiamo lavorando a questo progetto elettorale, abbiamo istituito delle commissioni programmatiche che hanno lavorato durante gli ultimi mesi e che sono giunte a una sintesi, grazie alla quale oggi abbiamo un programma certo, un progetto chiaro e già un candidato sindaco che annunceremo giusto sabato prossimo, 26 gennaio, in una conferenza aperta a tutta la cittadinanza. Quindi noi abbiamo un progetto chiaro per Firenze, abbiamo un'idea di città ben definita, non mi sembra che il centro-destra abbia la stessa chiarezza. Intanto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, aderisce al manifesto Siamo Europei e incassa l'appoggio del presidente della regione. Vediamo. Sindaco, anche lei, così come il presidente Enrico Rossi, ha aderito al manifesto Siamo Europei di Calenda. È un insieme di liste civiche, di varie forze civiche appunto per le elezioni europee, una lezione di lapira che può essere anche inserita in questo uniamoci contro i populismi? Io da quando sono sindaco ho sempre lavorato per l'unità. Mi dispiace che purtroppo a sinistra invece prevalga un sentimento di divisione, di distinzione a tutti i costi. Gli elettori sono un po' stufi di vedere la politica divisa, soprattutto gli elettori nostri, gli elettori democratici. In questo caso l'Europa può essere una grande occasione. Noi non dobbiamo difendere l'Europa così com'è. Questo sarebbe un grave errore. Però dobbiamo anche respingere l'aggressione dei sovranisti che vogliono smantellare l'Europa senza proporre alcuna alternativa. Noi dobbiamo avere un'idea nuova di Europa. Io credo che i cittadini vogliano un'Europa più unita, ad esempio nel campo della difesa, nel campo del fisco, ma anche nel campo del lavoro. Quello che è successo agli operai della Beckert, a cui è arrivata una lettera di licenziamento, prima di Natale di fatto, è grave anche perché la proprietà di questa grande azienda di figline ha spostato tutto in Romania, un altro paese europeo, per il semplice fatto che lì il lavoro costa meno, le tasse sono più basse. Ecco, io voglio un'Europa che tuteli tutti, a cominciare dai lavoratori, perché le regole devono essere uguali. Quindi, di fronte ad una crisi europea, la soluzione non è sfasciare l'Europa e neanche difenderla così com'è, ma rilanciarla e costruirla più unita, più forte. Un appello del genere, se può servire a questo scopo, a unire e a guardare all'Europa con intelligenza e con voglia di cambiamento, vale la pena che sia sostenuto. Non è una sconfitta per il PD, secondo lei, il fatto che non sia riuscito a unire le forze? No, guardi, la sconfitta è sempre di tutti, non è mai di una persona o di un soggetto in particolare. Sindaco, quanto gli ha fatto piacere le parole di Enrico Rossi, in vista delle amministrative, che ha detto che ci vuole sostegno fin dal primo turno. Enrico Rossi è stato ragionevole e coraggioso. Ragionevole perché questo tatticismo di chi dice che va diviso al primo turno e unito al secondo turno è un tatticismo fatto purtroppo di vecchi schemi politici che gli elettori non riconoscono più. O si sta uniti o si sta divisi. Non possiamo parlare due linguaggi diversi a distanza di poche settimane, credo. Coraggioso perché Enrico Rossi viene dall'esperienza di Leo e porta avanti però una linea che è quella di unire il centro-sinistra e non di marcare differenze. Non dimentichiamoci che dopo le elezioni di Firenze, Prato e Livorno avremo le elezioni in Toscana e se in Toscana il centro-sinistra arriverà diviso sarà molto difficile poter riconquistare una regione così importante. E a Grosseto si è svolto un incontro con Marco Taradash. Carlo Sestini. A Grosseto in Sala Pegasus è stato organizzato un incontro con Marco Taradash dal titolo La risposta politica alla distruzione dello Stato di diritto al populismo sfascista del governo giallo-verde. con l'introduzione di Francesca Scopelliti, Presidente della Fondazione Enzo Tortora e il coordinamento di Tommaso Emiliani dei Radicali Maremma. Un incontro in cui si è parlato della nuova associazione politica o a sfondo politico centro-motore. Ci rivolgiamo allo spazio centrale dell'elettorato italiano, cioè quelli che hanno votato il Partito Democratico o il centro-destra ma che si sentono liberal-democratici e credono alla necessità del mercato aperto, mercato libero, delle frontiere aperte, di un'Europa che funzioni, che non vogliono distruggere né l'euro né la giustizia dandola in mano a dei ministri come quello che oggi abbiamo, insomma che non vogliono distruggere l'economia né con l'assistenzialismo né con le promesse che non possono essere mantenute. Cioè quella parte che ha votato appunto il centro del centro-destra o il centro del centro-sinistra. Dobbiamo unirci tutti perché oggi il pericolo italiano di una democrazia autoritaria è ogni giorno che passa più forte. Che prospettive ci sono anche in funzione delle regionali di vedere magari il movimento centro-motore che inizia a diventare qualcosa di diverso? Guardi, noi non siamo un partito che si propone per l'elezione, vogliamo essere un aggregatore, vogliamo che si uniscano le forze che già ci sono e quelle che nasceranno e che hanno la sensibilità tale da capire che se non si sconfigge presto l'accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle ci troveremo in un'Italia gestita da un partito con un'ideologia totalitaria come i 5 Stelle e guidato da un uomo come Salvini che ha una vocazione autoritaria. Chi spera che i due rompano 5 Stelle e Lega spera male, non andrà da nessuna parte. E forse Italia e PD che certamente non si possono alleare oggi sono posizioni inutili. Per questo bisogna far nascere una cosa diversa, nuova e che sappia correggere gli errori del passato della Seconda Repubblica ma soprattutto mandare a casa questi che oggi vogliono sfasciare economicamente e politicamente l'Italia. In Regione Toscana che prospettive ci sono? Non so se di qui alle elezioni regionali sarà possibile farlo ma se qualcuno non comincerà a farlo come noi stiamo tentando di fare oppure il risveglio sarà veramente drammatico se non peggio. Torniamo alla cronaca. La Procura di Firenze ha aperto un'inchiesta sui concorsi universitari alla Facoltà di Medicina dell'Ateneo Fiorentino. Una quindicina, secondo quanto riportato oggi dal Corriere Fiorentino e dalla Nazione, le persone indagate nei confronti delle quali sono state richieste misure interdittive. I reati contestati a vario titolo sono abuso d'ufficio e turbata libertà del procedimento di scelta. L'economia intesa tra Regione e Confindustria per rafforzare gli investimenti in Toscana. Un protocollo per creare e rafforzare i rapporti con le società estere sul territorio. È stato firmato dalla Regione Toscana, Confindustria Toscana e Nazionale. Nello specifico parliamo delle multinazionali, grandi società che intendono investire generando profitti e restituendo anche posti di lavoro, occupazione. I dati già parlano di una Toscana che si classifica al terzo posto per capacità di attrazione di investimenti dopo la Lombardia e il Lazio. È un quadro oggi che ci dà un dato in crescita di presenze. L'ultima rilevazione eravamo a circa 600, ora siamo già a 619. Quindi è un trend, anche se numericamente può sembrare poco, ma che comunque oggi ci porta sul fatturato della Toscana 23 miliardi di fatturato. E più che altro con occupazione che è non in diminuzione ma in crescita. E comunque è quella che ha fatto tenere questa Regione nell'anni della crisi e oggi si vede di nuovo un incremento sulla parte multinazionale. Grazie all'export dove le multinazionali sono state le protagoniste di fatto. E alla base di tutto c'è il dialogo, come afferma il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. La mia esperienza nel corso di questi anni dice che se le istituzioni locali, la Regione, che comunque ha una competenza su materie importanti, anche sull'uso di fondi europei, sui rapporti con i ministeri, si dà da fare. Non si salva tutto, ma molte situazioni si possono sviluppare, far restare, sviluppare e svolgere anche un ruolo positivo nei confronti della piccola e media impresa. Industria 4.0, la Toscana ha un gap con le regioni più avanzate, lo dice l'indagine presentata a Firenze. La Toscana col 37,9% supera il dato nazionale, 36,4% per la diffusione delle tecnologie 4.0 nelle aziende sopra i 50 addetti, ma è staccata da regioni più dinamiche come Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Lombardia e Marche. E' quanto emerge da un'indagine realizzata dalla società MET per conto della regione presentata in un convegno con i rappresentanti delle categorie economiche. In un utilissimo tavolo di confronto abbiamo messo a disposizione nel sistema delle imprese le rilevazioni che ci sono state consegnate in merito al grado di acquisizione delle tecnologie innovative, dell'industria 4.0 dal nostro mondo imprenditoriale. Ne emerge un dato che per certi aspetti fotografa il nostro modello produttivo e d'altra parte anche misura il grado di ritardo rispetto all'innovazione tecnologica. Un sistema produttivo molto frazionato, dimensioni delle imprese molto modeste, competenze nella managerialità delle imprese, ancora sotto il livello delle aspettative e delle necessità che ormai la competizione ci richiede. E quindi una misura del nostro modello di impresa, ancorché molto efficace in termini di produzione di ricchezza, di recupero dei spazi di mercato, di incremento del PIL, dell'esportazione, tutto questo è sul tavolo. Stiamo operando in un momento che ci consegna dati del 2018 tutti positivi. Il nostro grado di innovazione tecnologica non è pari a quello che ci attendevamo. E non è tanto emersa una criticità delle misure di sostegno, anzi, devo dire che rispetto alle misure generaliste, fiscali messe in atto dal governo precedente, è emerso come ci sia più necessità di misure dirette specificatamente a settori, a incrementare specifici temi piuttosto che una defiscalizzazione degli investimenti in generale. Ed è quello sul quale orienteremo le nostre azioni. Restiamo a Firenze, antico rito armeno a San Miniato al Monte, Chiara Valentini. Narra la leggenda che San Miniato era un re di origine armena di passaggio a Firenze e fu colpito dalle persecuzioni dell'imperatore romano Decio. Il legame tra l'Armenia e l'abbazia di San Miniato è quindi fortissimo. Per questo, nell'ambito delle celebrazioni del millenario dell'abbazia, è stato ospitato un rito armeno antichissimo, la benedizione dell'acqua. Come tutte le chiese tradizionali, nel giorno di Natale, è l'epifania che noi facciamo insieme, la chiesa armena apostolica, questo fa insieme il 6 gennaio. Noi al solito andiamo a tutte le comunità per fare la benedizione dell'acqua che tradizionalmente porta ai credenti la salute e la benedizione che viene dallo Spirito Santo e della Santissima Trinità. Per noi ha un significato molto particolare questa chiesa e anche grazie dell'apertura del padre Bernardo, anche dei nostri fratelli cattolici. Siamo molto felici che in occasione del millenario, la nostra cripta dove sono custodite da mille anni le reliquie di San Miniato, sia il luogo dove si compie questa benedizione lustrale, si direbbe nella nostra tradizione, c'è la benedizione dell'acqua e di farlo appunto stabilendo un ulteriore nuovo tassello dell'amicizia fra l'Armenia e San Miniato, amicizia che verrà ulteriormente consolidata a un livello ancora più alto con la presenza alla fine del millenario di sua santità carichi in secondo che il patriarca d'Armenia. Possiamo fare un bilancio delle tantissime iniziative che hanno coinvolto l'Abbazia? Grazie, sono state davvero tante, in realtà continuano perché intendiamo completare l'anno millenario proprio fino al 27 aprile 2019 in una prospettiva che è stata quella di conoscere meglio la nostra storia per prepararci a un futuro migliore del presente che viviamo. Penultimo giorno oggi a Palazzo Strozzi per la mostra dedicata a Marina Abramovic, una delle personalità più celebri e controverse dell'arte contemporanea che con le sue opere ha rivoluzionato l'idea di performance mettendo alla prova il proprio corpo, i suoi limiti e le sue potenzialità di espressione. Lunghe file stamani per andare a visitare la mostra che dal 21 settembre, quando aprì, è già stata visitata da oltre 115 mila persone. È tutto, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata con i programmi di Toscana TV.